Fermi tutti, fermi tutti ragazzi, la Cremonese sta vincendo in casa 2 a 1 contro la Roma e siamo all'ottantottesimo minuto, pazzesco, pazzesco, Cremonese che non ha ancora mai vinto in questo campionato, vediamo se riuscirà a farlo, ma una Roma veramente che non me l'aspettavo giocasse così, c'è poca cosa, Mourinho fa sempre i suoi soliti lamentelli, le sue solite scene, tant'è che si fa espellere all'inizio del secondo tempo, più che lamentarsi io mi arrabbierei proprio con i propri giocatori, perché, ora, complimenti onora alla Cremonese che sta facendo un'ottima partita, però se è una squadra che fino adesso, che siamo alla 24esima giornata, non ha ancora mai vinto e tu stai sotto e stai perdendo proprio con questa squadra qui, tieni di svegliare, nel senso che comunque, ragazzi, se tu non vinci questo tipo di partite qua, poi la corsa Champions è dura, ricordiamoci che la Roma lotta per andare in Champions, la Roma, rotta per andare in Champions, se tu non vinci queste determinate partite qui, non ci vai, non ci vai in Champions, la Lazio adesso ti sta sopra di un punto, Dybala oggi ha sprazzi, devo essere sincero, ha sprazzi, una partita anche un po', come posso dire, una formazione un po' strana anche da parte di Mourinho, che prova a schierare Wainaldun dall'inizio, Dybala ha sprazzi, quando non c'è lui, a volte la Roma fa fatica, nel primo tempo, parita un po' brutta in generale, comunque, perché, a parte il gol della Cremonese, la Roma non tira mai in porta, ragazzi, ho quasi un'occasione, tiro di Matic fuori, e stavo dicendo, la Roma non tira mai in porta, mai in porta, ragazzi, mai in porta, invece, meno male, la Cremonese ha avuto questo gol qua, anche bello, no? Questa sponda di Petto, spalla di Valeri per Zagiu, se non sbaglio, che con il collo esterno tira al volo, palla che comunque piglia un bel effetto, è inganno di Patricio, va sotto al 7, quindi il gol di questo giocatore qua è veramente molto, molto interessante. Nel secondo tempo, la musica non è che cambia tanto, anzi, la Cremonese ha avuto anche un contropiede molto, molto pericoloso, dove poteva fare veramente male, non sfruttato. La Roma inizia a crescere quando? Quando praticamente fai quattro cambi, no? Ti butta dentro in un colpo solo Escharawit, Amiabram, Matic, Solbacche, no? Una Roma molto più offensiva, e comunque ti dà l'idea di voler spingere e provare a trovare questo gol. Infatti molte volte, anche lo stesso Belotti o Pellegrini sono riusciti a inserirsi di rigore, però un po' per bravura di carne e secchi che esce pulito ogni volta sul pallone, o comunque per imprecisione di Pellegrini, che mi ricordo uno stop di Pettina e di rigore dove poteva girarsi e far male, non ha fatto male, la Roma non ha approfittata. C'è stata anche una coordinazione di Tamiabram al volo, dove praticamente non ha approfittato, il Sharaoui che si allunga il pallone, carne e secchi gliela sporca in uscita con le mani. La Roma un po' imprecisa, però l'unico tiro in porta che fa la Roma, alla fine, e siamo sempre lì, è il gol. Alla fine, occasioni poche, il gol è anche bello, no? Questo lancio di Mancini per Spinazzola che taglia molto bene il campo in posizione regolare, Spinazzola fa anche un ottimo aggancio, ha tutto il tempo comunque con questo aggancio molto bello che ha fatto di mettere giù il pallone, prendere la mira, angolare la palla nell'angolino e a trovare il gol dell'1-1. Dopo gol dell'1-1 la Roma sembrava che potesse ribaltare questa partita e alla fine invece la Cremonese butta dentro Ciofani, cambiano le caratteristiche, un giocatore più fisico, dove comunque si è già sentita la differenza, perché il bagno si è fatto fare fallo, copre bene il pallone. E sempre Ciofani, ragazzi, che a limite di rigore si gira a tira, c'è una deviazione, se non sbaglio comunque è un tiro un po' sporco, la palla di Vaukereke che è comunque in posizione regolare, tu per tu con lui Patricio, Vaukereke sposta il pallone, salta a lui Patricio, lui Patricio lo stende, calcio di rigore. Calcio di rigore netto, convalidato, perché poi il fuorigioco non c'era di Vaukereke. E che dire, alla fine poi Ciofani va a battere questo calcio di rigore, ragazzi lo tira perfetto, perfetto, c'è un rigore potente e preciso angolato, da te che lui Patricio l'aveva anche intuita la palla dove andasse, infatti si è allungato anche molto bene lui Patricio, però se poi riguardano calci forti e preciso lì nell'angolino, poi anche per quanto puoi intuire la palla dove va, non è mai semplice pararla. Quindi Ciofani fa un ottimo rigore, assolutamente sì, lui Patricio non ci arriva per poco. E quindi 2-1, 2-1 e adesso la Cremonese sta lottando, sta lottando per portarsi a casa questi tre punti, che a prescindere che possono comunque servire o no per il campionato, perché comunque secondo me anche se fai i primi tre punti è un po' troppo tardi, mi avviso, però sono tre punti che comunque ti dà morale, cioè tu dici cazzo finalmente sono riuscito a vincere una partita, e l'ho vinta con la Roma, non con una squadretta, cioè l'ho vinta con la Roma la partita, è una squadra che se andava a vincere stasera si trovava al secondo posto ragazzi, insieme a Milano e Inter, non scherziamo. Eppure la Roma ragazzi, ripeto, non mi aspettavo, non mi aspettavo una prestazione del genere. Cioè la Roma, la Roma io lo dico sempre, ha una squadra di qualità, molto a qualità. E purtroppo però stasera ha creato poco, ha veramente creato poco, l'incubo cremonese, l'incubo cremonese che dopo aver eliminato in Coppa Italia, ragazzi, adesso sta per fare il colpaccio, mancano due minuti alla fine, e che dire, io direi che per il video ho detto tutto in realtà, perché comunque c'è poco da parlare, eventualmente se dovesse accadere qualcos'altro, aggiorno il titolo, però in questi ultimi due minuti che mancano, sinceramente cambia poco il mio aspetto sulla partita. Cioè anche se la Roma adesso fa il 2-2, il 3-2 nel giro di due minuti, sì, hanno vinto, l'unica cosa che cambia è la classifica, l'unica cosa che cambia è che prendono i tre punti, ma per quanto riguarda la prestazione, io non cambio idea, perché la prestazione quella è quella di Mani. Cioè, cremonese brutta da una parte, nel senso che comunque fa pochi tiri, Roma brutta dall'altra, che dall'altra parte fa altri tanti pochi tiri. La differenza è che però la cremonese è ultima, e ci può stare che abbia più fatica, a fare i tivi in porta, a creare qualcosa. Invece la Roma no, la Roma non ha questa scusa, palla dentro, tagliava ogni testa, fa l'appoggio per Solbac, no, la cremonese qua pasticcia, Solbac recupera ancora palla dentro, lunga, sta spingendo la Roma, sta spingendo, attenzione di bala, sacchetta di bala, di bala, di bala, tiro di bala, alto, alto, quindi vi dico, per quello che stavo dicendo, è più plausibile. Poi la cremonese fa anche un ottimo pressing, nel primo tempo la cremonese la fa giocare male la Roma, perché la cremonese il primo tempo lotta su tutti i palloni, lotta su tutte le seconde palle, quindi complimenti, complimenti veramente, mancano comunque 30 secondi ragazzi, vi saluto che poi tra poco c'è anche la Juve, se il video vi piacerebbe lasciate un bel like, mi raccomando, commentate questi commenti, fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto, di questa cremonese e Roma, ritengo un po' la vostra, a questi altri commenti che sono curioso, un bel altro oggetto lasciatelo, i commenti li lasciate, iscrizione anche al canale ragazzi, che è gratuita, l'iscrizione non costa nulla per avere tanto, quindi iscrivetevi anche al canale, che è fondamentale, vi ringrazio di quale se lo fate, condividetevi i video vostri, bisogna iscrivetevi anche loro, e attivate la campione delle notifiche, così non vedete i miei prossimi video che usciranno, qui da me che è tutto, link e iscrizione anche al mio profilo Twitter, e anche nel canale delle barri di tifosi channel, qui da me che è tutto, bella, pazzesco.